Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile, Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa nel rispetto della privacy gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese. Caro Marco, buonasera a tutti quanti. Caro Marco, mi sa che qui la cosa diventa sempre peggio. Mezza settimana per mezza settimana. Beh, io inizio con una risata perché dobbiamo un po' sdramatizzare. Però sotto certi punti di vista, leggendo i numeri, e questo noi facciamo, lo diciamo sempre, non siamo né virologi, né medici, né politici responsabili di nulla. Però i numeri sono quelli, quelli ufficiali, quelli li possiamo leggere insieme e commentare. Beh, e quelli sì, non c'è molto da ridere, da sorridere. Però diciamo che sembrerebbe che, sottolineiamo, sembrerebbe che il governo stia correndo i ripari. Infatti, datato di PCM 12 di ottobre e valido da quest'oggi, 13 di ottobre, ci sono alcune novità, come possiamo vedere anche dalla grafica, che riassumono un po' alcuni settori che vengono toccati da questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Iniziamo subito col fatto che questo era già uscito qualche giorno fa, l'obbligo della mascherina. L'obbligo della mascherina ovunque, anche all'aperto e al chiuso, tranne se ci si trova nella propria abitazione, neanche a dirsi. Naturalmente, se ci si trova nell'abitazione, da soli o con i conviventi, perché se noi invitiamo qualcuno a casa, che non sono i nostri conviventi, ma anche amici o anche parenti, dobbiamo tutti quanti indossare la mascherina, anche in casa. Non lo deve fare chi ha meno di sei anni e poi chi sta facendo sport. Non solo, è anche esonerato da indossare la mascherina chi ha patologie o disabilità incompatibili. Poi, altra novità di questo DPCM è che restano chiuse le discoteche, quindi non è una novità, ma è una conferma. Le sale da ballo e sono vietante però anche le feste, sia nei luoghi chiusi che all'aperto. Per quanto riguarda le cerimonie, i matrimoni per esempio, sono consentiti, così come la cerimonia tucur, ma anche la relativa pranzo o cena, basta che non ci siano più di 30 persone come partecipanti. Poi, è fortemente raccomandato, naturalmente non può essere vietato per motivi costituzionali, evitare le feste in casa, cioè vietare, imporre ad ognuno di noi cosa fare nella propria casa. Però è fortemente raccomandato, appunto, evitare le feste in casa e ricevere non più di sei persone non conviventi. Quindi se noi viviamo in casa in due, possiamo essere massimo in otto in totale. Poi, per quanto riguarda la ristorazione e non solo, quindi anche la famigerata Movida, quindi tutti i recettori relativi alla Movida, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, eccetera, locali in genere, il tutto viene consentito fino però alle 24 con consumo al tavolo e fino alle 21 in assenza di consumo al tavolo, quindi in piedi. E sono vietati gli assembramenti, questo vigeva già in prima. Poi, per quanto riguarda i viaggi di istruzione, quindi le gite scolastiche, tutto è sospeso, le iniziative di scambio e gemellaggio sono sospese, i tirocini universitari sono consentiti se garantiscono il rispetto delle prescrizioni sanitarie. Poi, viene mantenuto il numero di mille spettatori massimo come spettacoli all'aperto e di 200 in luoghi chiusi per ogni singola sala, per quanto riguarda i teatri, i concerti, i cinema, eccetera, mantenendo comunque le linee guida, quindi il distanziamento, la mascherina, al chiuso e il lavaggio delle mani. Per quanto riguarda lo sport, con questo DPCM, la novità è che è vietato lo sport di contatto solo a livello amatoriale, quindi è consentito sempre lo sport di qualunque tipo, anche nelle palestre, eccetera, anche a livello di società, per quanto riguarda le società professionistiche, le associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, a livello sia agonistico che di base, questo è da specificare, perché fino a ieri o l'altro ieri si parlava solo di sport professionista, no, anche quello di base, purché sia riconosciuto dal CIP o dal CONI come attività delle relative associazioni. Domande Marco? Ok, detto questo, che abbiamo un po' fatto il riassunto di questo nuovo DPCM, iniziamo come facciamo ogni giorno da leggere insieme, Marco, i dati della giornata di questa maledetta pandemia, con la protezione civile che ci illustra come sono andati i numeri, iniziando subito dal numero dei guariti, Marco, vediamo insieme che abbiamo 1.428 guariti in più nelle ultime 24 ore, partiamo da questo dato perché è quello che ci fa più ben sperare, però purtroppo abbiamo anche dati non troppo positivi come i ben 5.901 casi di positività nelle ultime 24 ore, numero non tanto basso, anzi il record degli ultimi tre mesi e mezzo. Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi, purtroppo cresce anche il numero degli attualmente positivi in Italia, 87.193 deceduti, salgono seppur di poco, ma salgono anzi neanche tanto poco, perché oggi di nuovo un'accelerazione importante, la più alta degli ultimi tre mesi siamo a 36.246 deceduti in totale dall'inizio della pandemia. Vediamo velocemente insieme grafico per grafico come facciamo di volta in volta, il grafico 0.1 ci dice appunto quanti nuovi positivi, tamponi positivi sono stati trovati nelle ultime 24 ore, lo vediamo lì, oggi dati naturalmente del 13 di ottobre, 5.901 tamponi positivi nelle ultime 24 ore, come vedete è il dato più alto dell'ultimo mese che è rappresentato in questa grafica, ma è anche il dato più alto dallo scorso aprile, quindi un dato molto pesante, diciamo così. Che lo andiamo a confrontare con cosa? Come sempre lo facciamo con il grafico 3, con il numero dei tamponi che vengono eseguiti giorno dopo giorno. Oggi nulla di, diciamo, da Guinness dei primati per quanto riguarda la nostra Italia, siamo a 112.544, quindi un numero più alto di quello di ieri che è il dato settimanalmente più basso, ormai a livello sinusoidale si vede, perché è figlio del risultato della domenica, però oggi doveva essere più alto rispetto a quello che ci ha abituato lo scorso settimana, in realtà così non è, lo vedete nel grafico che abbiamo toccato i risultati di tamponi giornalieri anche di quasi 130.000 casi nelle 24 ore, oggi non è stato così. Andiamo a vedere col grafico 8, Marco, e lo facciamo di volta in volta, sono in percentuali il rapporto tra i positivi e i tamponi fatti, il grafico 8 in rosso vede una costanza del valore, 5,2% rispetto a ieri, rispetto all'altro ieri non è aumentato, ma stiamo guardando facilmente, lo si può intuire, che stiamo parlando dei valori più alti dell'ultimo mese, anche in questo caso non solo dell'ultimo mese, ma proprio di questa fase 2, cioè di fino aprile e primi di maggio. Un dato che poi andiamo a vedere col grafico 9, che ci dice che cosa? I positivi sui nuovi casi tostati, i positivi sui nuovi casi testati ci dice che siamo all'8,4%, quindi stiamo parlando della percentuale dei nuovi positivi, quindi escludendo i tamponi di controllo, cioè coloro i quali sono già stati tamponati. 8,4%, anche in questo caso purtroppo il dato più elevato nell'ultimo mese, addirittura negli ultimi 3 mesi. Questi sono i dati un po' non troppo lusinghieri, che possiamo anche riassumere col grafico 10, il grafico 10 riassume da luglio in poi come questo valore, cioè dei positivi sui nuovi casi testati è variato, andamento delle ultime settimane, guardate come è in salita, purtroppo, e non sembra rallentare, speriamo che non sia così, però quello che si vede è questo. Andiamo a vedere il grafico numero 2, Marco. Il grafico numero 2 ci parla degli attualmente positivi, cioè coloro i quali oggi in Italia sono positivi al tampone. Abbiamo detto che sono 87.193 in totale, oggi crescono di 4.429. Dopo un rallentamento degli ultimi due giorni, ritorna questo dato a salire purtroppo. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda i ricoverati, grafico 4, ricoverati con sintomi, quindi non in terapia intensiva, ma pur sempre all'interno dei nosocomi italiani sono 5.076 in totale, salgono solo nella giornata di oggi di 255 posti letto in più. Se poi andiamo a vedere il grafico 5, il grafico 5, il grafico relativo alla terapia intensiva, oggi abbiamo 62 persone che sono purtroppo state ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 514 in totale in tutti gli ospedali italiani reparti Covid. Per quanto riguarda i decessi, grafico 6, il grafico con le listelline nere ci fa vedere che oggi c'è il dato più alto dell'ultimo mese, ma non solo, anche in questo caso un dato così lo avevamo ai primi giorni di giugno. Stiamo parlando di 41 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Parliamo col grafico 7 invece dei guariti, i guariti giornalieri tornano un po' a salire, la cosa ci fa ben sperare, è un dato che non è il più alto, ma è fra più alti dell'ultimo mese e quindi tutto anche in proporzione ai tamponi che vengono fatti, quindi si trovano anche più positivi e oggi è un dato che conferma questo andamento. Hai domande Marco? Andiamo a vedere per quanto riguarda le terapie intensive. Le terapie intensive col grafico 13, abbiamo già imparato che leggere il valore delle terapie intensive ci dà un po' la temperatura, la febbre di questa pandemia, cioè quanto è grave il virus a livello di sintomatologia. Col grafico 13 vediamo un confronto di aumenti di terapie intensive. Vedete che oggi 13 di ottobre abbiamo avuto un aumento di 62 casi, lo scorso 29 di marzo, in pieno ancora lockdown, eravamo a 60 come aumento di terapie intensive. E pensate, il 5 marzo, quindi alle porte del primo lockdown eravamo a 56, quindi tutti i valori diciamo più bassi a livello di accelerazione, di aumento rispetto ad oggi. Speriamo che sia un dato così temporaneo e in diminuzione. Andiamo a vedere il grafico 14, stesso ragionamento, qua parliamo però anche di regioni. Abbiamo il valore delle terapie intensive, recovery covid, come leggete, su totale posti disponibili. Questo è un altro dato molto importante, perché ricordiamoci che la situazione potrebbe degenerare, cioè andrà in saturazione per quanto riguarda gli ospedali e le relative terapie intensive, quando si supera, secondo, come c'è scritto nel grafico, il tavolo tecnico scientifico ha dato la soglia di allerta del 30%. La media italiana è dell'8% ad oggi, quindi siamo ben sotto, fortunatamente, però abbiamo alcune regioni che sono nettamente superiori alla media italiana e sono l'Umbria, come vedete, la Campania, la Sardegna e ci siamo noi della Liguria, con il nostro 15%. Andiamo al grafico 15, Marco, parlando sempre di terapie intensive, perché oggi volevo parlare di questo argomento, perché i numeri sono tutti in aumento, però dobbiamo anche sapere, come diciamo spesso e volentieri, leggere questi numeri o comunque sia farli raffrontare a una realtà temporale e territoriale, questi numeri. In questo caso stiamo leggendo un grafico di terapie intensive per quanto riguarda i posti letto disponibili. Posti letto disponibili pre-pandemia, cioè prima a febbraio per intenderci, in Italia erano 5.179. Per quanto riguarda la giornata di oggi sono disponibili 6.458 posti letto di terapia intensiva. L'obiettivo del Ministero della Salute si è posto un incremento del 25%, quindi l'obiettivo del Ministero della Salute per le terapie intensive è di 7.789 posti letto, non ci siamo ancora, però ci stanno lavorando a livello nazionale e poi anche a livello regionale. Questo è un altro dato molto importante. Il grafico 16 ci dà anche un attimo di respiro, tra virgolette, perché anche in questo caso vedete che le percentuali di positivi in terapia intensiva al 4 di aprile erano al 4.5%, quindi un aumento peggiore a livello nazionale di terapie intensive, 4 di aprile, era al 4.5%. Per quanto riguarda la giornata di oggi, 13 di ottobre, siamo allo 0.6, leggermente in salita fino a ieri allo 0.5, però siamo a situazione, a livello percentuale, nettamente più tranquilla e la cosa è giusto comunicarla, quindi un dato che ci fa comunque ben sperare. Parliamo di tamponi Marco, tamponi col grafico 17, abbiamo parlato di valori che nelle ultime settimane sono aumentati e non poco, i tamponi in generale, i tamponi totali, lo vedete in rosso, l'andamento della curva in rosso e i tamponi dei casi testati, cioè ovvero sia coloro che sono stati testati la prima volta, che naturalmente a livello numerico sono sempre più bassi dei tamponi totali, perché il totale giustamente è il massimo, quindi sono in azzurro, lì più in basso e ci fanno vedere però che cosa, che al sul finire, dal cuore sul finire della fase 1 erano a un valore dai 58.000 ai 62.000, 63.000 tamponi totali al giorno, sono scesi durante il periodo estivo per poi accelerare notevolmente nel periodo dopo ferragosto e fino ad oggi che stanno continuando a salire. Ricordiamoci che però rispetto ad altri paesi europei siamo uno dei paesi che fa meno tamponi, quanti? Andiamo a vederlo subito Marco. Grafico 19 fa vedere un'Europa con alcuni paesi in rosso e chi sono quei paesi? Chi fa più tamponi di noi? È un dato a livello settimanale per 100.000 abitanti, quindi come sempre quando parliamo di 100.000 abitanti vuol dire che è un dato confrontabile. Fanno più tamponi di noi Islanda, Irlanda, Regno Unito, Spagna, Francia, Belgio, Austria, Cipro, naturalmente non in totale ma in proporzione alla popolazione, Lussemburgo, Germania, Lituania e Finlandia. Tutti questi paesi fanno più tamponi dell'Italia, poi ci sono altri paesi che un po' per scelta, vedi altri paesi scandinavi, un po' per capacità magari delle singole ASL, dei singoli sistemi sanitari locali non riescono a fare più tamponi di noi, però ne abbiamo molti paesi come detto che ne fanno più di noi. Infine per quanto riguarda l'argomento tamponi, grafico 18, andiamo a vedere a livello di singole regioni come sono messe a livello, in confronto fra il 12 di agosto e l'11 di ottobre, quindi stiamo parlando di due mesi, nell'arco temporale di due mesi, vedete che l'Italia è a circa, naturalmente casi testati per 100.000 abitanti, quindi confrontabile questo valore regione per regione, e ha circa come media 5.500 tamponi. Per quanto riguarda alcune regioni come il Lazio che tocca gli 8.000 tamponi per 100.000 abitanti in questo periodo di due mesi, ci sono altre regioni come la Liguria che è sotto la media e altri paesi, altre regioni sono notevolmente sotto la media, anche la Val d'Aosta che ha notevoli problemi, meno della Liguria ma comunque sia similari, è più in basso ancora come casi testati per 100.000 abitanti. Ora è giunto il momento di andare a vedere un po' i dati della nostra regione, della Liguria Marco, col grafico 0-0, i dati 0-0, leggiamoli insieme per capire effettivamente come siamo messi e oggi purtroppo non siamo messi bene, abbiamo toccato il record per quanto riguarda questa seconda fase, questa seconda ondata, cioè post-estiva, 447 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Abbiamo 392 attualmente positivi in più in Liguria, pensate che ci sono quasi 4.800 Liguri positivi di cui 299 sono ricoverati in ospedale, 14 in più nelle ultime 24 ore, 27 sono in terapia intensiva, 3 in più nelle ultime 24 ore e 168 in più nelle ultime 24 ore fra gli isolati a livello domiciliare, cioè persone che sono positive, malate, riscontrate malate perché il tampone gli ha dato esito positivo, però sono in casa a domicilio. Per quanto riguarda i guariti, abbiamo 54 guariti in più in Liguria, stiamo sfiorando i 9.500 guariti dall'inizio della pandemia e abbiamo un solo decesso nelle ultime 24 ore, tamponi. Il valore dei tamponi è molto importante in Liguria, oggi 4.766, motivo per cui abbiamo trovato anche tanti positivi, uno dei motivi perlomeno. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, abbiamo un'accelerazione abbastanza importante, anche se la nostra ASL è la più bassa, insieme all'ASL1 in tutta la Liguria, abbiamo 17 ricoverati in reparto Covid, ieri erano 10. Abbiamo avuto una discreta accelerazione. Per quanto riguarda i dati ancora più locali, andiamo a vedere insieme i dati di Chiavari. I dati di Chiavari registrano un'accelerazione abbastanza importante nelle ultime 24 ore. Pensate, 11 persone chiavaresi in più sono risultate positive nelle ultime 24 ore, portando a 41 il totale dei chiavaresi positivi ad oggi. Per quanto riguarda le persone invece in sorveglianza attiva, oggi sono 98, quindi persone che devono stare in quarantena per intenderci. Questa è un po' la situazione anche chiavarese. domande Marco? Andiamo a vedere col grafico numero 11 Marco, sì ok, che non l'abbiamo ancora visto. I positivi su tamponi fatti, abbiamo parlato all'inizio della percentuale che era sul 5,2% della media nazionale. Abbiamo però poi adesso snocciolato e guardato insieme i dati della nostra regione, la regione Liguria. Qui vediamo un valore confrontato con le altre regioni. Abbiamo detto che la regione Valle d'Aostra è quella non solo oggi, ma nelle ultime giornate, nelle ultime settimane è quella più stressata a livello di positivi sui tamponi fatti che vengono fuori, il 12,2%. Il Veneto oggi il 12% ha avuto una nuova accelerazione e poi ci siamo noi della Liguria con il 9,4% seguiti dalla Campania, Sardegna e Piemonte. Quindi ricordiamoci che non siamo messi benissimo. I decessi, ora parliamo col grafico 12, cambiamo un po' argomento. Abbiamo imparato che i decessi in questa seconda fase fortunatamente sono più bassi di numero rispetto alla famosa prima fase e lo conferma anche questo dato. Nella media settimanale trascorsa la Spagna invece è molto in alto con 74 decessi negli ultimi 7 giorni, la Francia con 70, il Regno Unito con 68, l'Italia con 31 e la Germania con 12. Poi fa quasi annichilirci il valore della Cina, 0 decessi negli ultimi 7 giorni causa Covid, quindi la Cina non è Covid free, però ha una situazione notevolmente sotto controllo anche con i casi gravi che portano poi al decesso. Allora, prima di salutarci ancora due aspetti. Il primo è di andare a vedere insieme come facciamo di volta in volta i dati al di fuori dei confini italiani ed europei. Col grafico 20 Marco, con la tabella 20 andiamo a vedere i paesi, come facciamo ogni volta appunto, più colpiti dal coronavirus. Sempre gli Stati Uniti d'America fanno da apripista questa macabra classifica, hanno pensate 7 milioni e 800 mila casi totali e sono in salita, negli ultimi 24 ore si sono aggiunti 41.653 tamponi positivi e anche come attivi sono sempre in salita, sfiorano i 10 mila nelle ultime 24 ore. Il valore dell'India che è sempre molto alto come totale anche se sta diminuendo il valore degli attualmente positivi, fortunati loro, bene, vuol dire che stanno lavorando correttamente, speriamo che siano attendibili questi numeri. Il Brasile torna a salire invece come attualmente positivi, 8.200 solo nelle ultime 24 ore. La Russia, anche il paese russo ha un'accelerazione importante, la Colombia è praticamente stabile, però è molto stressata a livello di totali positivi. Abbiamo anche un'Argentina, la Spagna, purtroppo la Spagna è l'unico paese ed è sempre lì perché ha sempre tanti casi attualmente positivi, così come non li ha però il Peru che è a ruota dietro la Spagna e il Messico, entrambi questi paesi stanno regredendo come attualmente positivi, vuol dire che la loro strategia a livello di controllo dei focolai sta leggermente funzionando. Grafico 21, parliamo di numeri in generale, di variazione giorno per giorno, in tutto il mondo. Ne ha parlato delle singole nazioni, come si stanno comportando, il valore totale invece a livello mondiale sfiora 38 milioni, dato aggiornato a ieri, stiamo per sfiorare 38 milioni di casi totali Covid. Abbiamo ben superato ormai da 5 giorni 10 milioni di attualmente positivi, 10 milioni e 4,45 e purtroppo abbiamo da un po' di tempo superato anche il milione di decessi, 1 milione e 80 mila ad oggi, anzi a ieri. Sale naturalmente anche fortunatamente anche il numero dei guariti. Domande Marco? Ok, allora ultima cosa, il grafico gentilmente di tipi di test Covid che hai a disposizione ci permette di leggere assieme che cosa? Cosa vuol dire quando si parla di test per il coronavirus? Quali sono quindi i test disponibili in Italia per verificare l'inversione dal SARS-CoV-2. Ci sono i test virali e i test immunologici. I test virali sono quelli diretti, quelli tamponi per intenderci, sono quelli più conosciuti da tutti, quelli più usati quotidianamente e sono i tamponi naso-faringei oppure oro-faringei, quindi in gola oppure nel naso, che permettono quindi di diagnosticare la presenza o l'assenza del virus e quindi la relativa carica virale dentro ognuno di noi. I tamponi standard sono quelli che ricercano l'RNA del virus. Abbiamo una risposta entro 24 ore, il test si svolge oggi e abbiamo una risposta domani. La sensibilità è fra il 60 e il 90% ed è indicato per misurare i sintomi, scusate, quando ci sono i sintomi oppure per contatto stretto di un positivo, quando veniamo a conoscenza del fatto che siamo venuti a contatto con un positivo e in presenza di un focolaio. Questo è il caso poi più comune, usare questo tipo di test, quello del tampone. Poi c'è il tampone rapido. Il tampone rapido serve per andare, definito anche antigenico, proprio perché serve per andare a cercare gli antigeni, cioè le proteine del virus. Ha una risposta in pochi minuti e ha una sensibilità più bassa. È indicato per lo screening di massa, infatti adesso sta diventando, verrà usato e anche il DPCM contiene indicazioni in merito con l'uso del tampone rapido per uscire dalla quarantena in maniera più veloce. L'identificazione del focolaio è utile con il test rapido e possibili contatti compositivi, anche in questo caso come il tampone tradizionale. Poi esiste il test immunologico, l'abbiamo già conosciuto perché è ormai da mesi e mesi che si può fare con l'uso del sangue. Grazie a un prelievo quindi di sangue misuriamo la risposta immunitaria dell'organismo al virus e verifichiamo quindi la presenza di anticorpi nel nostro organismo. Si usa per cercare gli anticorpi, quegli IgM e IgG, si fa con o il prelievo del sangue o il pungidito, per intenderci. Se ha una risposta abbastanza rapida, in 24 ore abbiamo l'esito, per quanto riguarda soprattutto l'esame più approfondito. Si fa in caso di screening di massa e ha una importante attendibilità. Però c'è anche da specificare che non è che ci dice esattamente, a differenza del test virale, se siamo malati in quel momento, no, ma ci dice semplicemente se ne siamo venuti a contatto e quindi capire anche a livello di test, a livello nazionale o locale, quanta popolazione è venuta a contatto con il virus. Questo è un po' il quadro per capire esattamente, quando si parla di test, cosa si può fare e cosa esiste nel mondo, senza bacchette magiche, senza voli pindarici. Domande Marco? Quindi mi pare di capire che bisogna stare attenti e di indossare la mascherina soprattutto, così se siamo asintomatici non rischiamo di contagiare nessuno, giusto? Bravissimo, anche perché al di là delle tantissime parole che abbiamo fatto anche questa sera, numeri, contronumeri, andamenti di PCM, test e tutto quanto, restano pochi messaggi chiari da recepire, ovvero sia il prevenire che è sempre meglio che il curare, soprattutto quando non c'è una cura esatta, come in questo caso, tantomeno un vaccino, quindi è meglio prevenire. E il come prevenire? Cioè, il prevenire dobbiamo pensare non solo a noi stessi, ma anche agli altri, perché questa è una malattia che non è, diciamo, che capita solo a noi, ma capita agli altri e gli altri possono infettare noi stessi, o viceversa. O noi stessi, capitandoci la malattia, possiamo infettare anche gli altri, quindi è un discorso molto importante a livello anche sociale. Quindi usiamo la mascherina, come dicevi tu, igienizzazione delle mani, distanziamento, come ci viene imposto del famoso metro o anche di più, e utilizziamo anche l'app immuni, perché no? Perché potrebbe essere molto utile, ci può fare la differenza anche a livello personale, ma non solo. Grazie Marco, ci troviamo naturalmente sempre corso in Tella TV, giovedì prossimo.